Oltre 40.000 adobbi natalizi destinati alla vendita per un valore complessivo di oltre 55.000 euro, risultati non conformi agli standard di sicurezza, sono stati sequestrati dai finanzieri del Comando Provinciale della Spezia nel corso di una serie di controlli effettuati all'interno di diverse attività commerciali in città e in provincia. Nello specifico le decorazioni, gli adobbi natalizi rinvenuti grazie ad una preventiva attività investigativa tra cui palline di Natale, candele natalizi, alberelli di Natale e ghirlande posti in vendita al pubblico risultavano essere sprovviste delle informazioni minime ed essenziali identificative del prodotto, quali la composizione, le caratteristiche e delle necessarie avvertenze circa il loro utilizzo, tutti elementi da riportare obbligatoriamente in italiano e in modo visibile sulle confezioni e le etichette degli articoli destinati alla vendita. L'indicazione di queste informazioni garantisce infatti al consumatore finale la conoscenza necessaria in merito al prodotto che acquista, consentendone un utilizzo sicuro per la salute. Gli articoli, risultati non conformi rispetto alla normativa vigente, sono stati sottoposti a sequestro amministrativo, mentre i venditori ispezionati sono stati segnalati alla Camera di Commercio per il pagamento della prevista sanzione amministrativa che può variare da 516 a oltre 25 mila euro.